Perchè non mi interviene? Bellissimo! Mi intervieni tu, mi intervieni tu In zona ci saliti eh Che cosa? I cavalli? Questa è per giocare all'atrice Valigie qua dentro E veniamo da 15 ore di viaggio Sto saluto, voglio Quella che capisodio è spettacolare Quella che capisodio è spettacolare Perchè non andiamo a vedere un foto? Un'intervista a caldo Un'intervista a caldo, spaghetto Appena arrivato Le dico le cose, Gianfran Spaghetto Una dichiarazione Sei appena arrivato Tu sei appena arrivato Sei contento? Guarda le monete, c'è buono io Ciao, buona macchina Sai voi che vedrai il film? Ma che tu hai curioso? C'è la spinazzola La spinazzola La spinazzola La spinazzola Ma non abbiamo dolce Via Camoranesi Vedi che stavano messo qui su Guarda Sei un po' triste, Camoranese Si, si Fai un eddai E dai E dai Perchè triste? Finchè arriva qualcosa, Pino Tu sai perchè sei triste? Perché mi facciamo un'intervista Tu li rompi i coglioni a cuore Perchè? Perchè? Perchè sei triste? Tu sai qui? Il rompi i coglioni a cuore